ciao amici barbuti baffuti amanti del canale youtube il guru della barba ben ritrovati in questo nuovo video dopo tanto tempo eccoci andremo a parlare della mia nuova linea green esatto avete capito bene è uscita la mia linea green green in che senso adesso vado a spiegarvi uno shampoo da barba guardate bene shampoo da barba è talmente green che va bene anche per i capelli poi vi spiego è un balsamo da barba da risciacquo mancava nella mia nuova linea due prodotti green con due ingredienti biologici e il resto 98 per cento gli altri ingredienti naturali medi in italy prodotti medi in italy flaconi sono entrambi prodotti con pasta plastica riciclata e sono addirittura riciclabili riciclata e riciclabili green due prodotti green fantastici partiamo con lo shampoo da barba un 250 ml di contenitore bello grande con ingrediente olio di oliva biologico e olio di cartamo biologico emolliente nutre e volumizza sia la barba che i capelli li rende leggeri e voluminosi è ottimo per lavaggi frequenti che spesso la gente si deve lavare la barba perché fa sport o per certi tipi di lavori a contatto con le polveri shampoo con condizionanti a basso effetto build up praticamente rende il pelo lucente condizionato senza pesantirlo rende morbida sia la barba che i capelli ha un ph che va da tre e mezzo a quattro e mezzo con questi due prodotti biologici e gli altri il resto degli ingredienti naturali al 90 oltre oltre ricordatevelo 98 per cento si può utilizzare sia sulla barba che per i capelli e lavaggi frequenti non facciamocelo scappare la nuova linea green ammetto una cosa anche gli altri prodotti sono fantastici è prossimo qualcuno volna qualcosina in più shampoo green ragazzi fantastico principi attivi di questo shampoo l'olio di oliva biologico e olio di cartamo biologico sono ad azione emolliente energizzante ricchi di vitamine acidi insaturi con azione antiossidante nutriente danno il giusto equilibrio idrolipidico ed apportano luminosità ed ora passiamo al balsamo da risciacquo è fantastico anche questo qua guardate sempre con due ingredienti principale olio d'oliva biologico e olio di cartamo biologico e il resto degli ingredienti oltre il 98 per cento naturale è tanta roba ed è per questo essendo molto green si può usare sia per barba che capelli chi li tiene anche questo con un ph da che vada tre e mezzo a quattro e mezzo più o meno i ph nostri delle pelle sono sui sette credo questo è talmente leggero che va bene sia su barba che capelli ok è condizionante non appesantisce il pelo rendere la barba e capelli morbidi è un balsamo leggero nutre ed è emolliente volendo si può usare tutti i giorni o dopo lo shampoo praticamente vi fate il vostro shampoo alla barba una volta risciacquate vi applicate questo prodotto sopra balsamo da risciacquo ok lo si applica barba bagnata lo si tiene su da un minuto a tre minuti poi risciacquate quindi lo si può utilizzare o dopo lo shampoo oppure anche da solo ok vi ripeto sono due prodotti fantastici vi rende il pelo scorrevole cioè docile al pettine quando andate a pettinare praticamente aiuta la scorrevolezza della spazzola e pettine adatto a tutti i tipi di i capelli e barbe questo balsamo rende la barba emolliente la va a nutrire nutre il pelo anche qui ricco di vitamina contribuisce il giusto equilibrio idrolipidico dando luminosità ragazzi non facciamocelo scappare entrambi da provare e entrambi prodotti come il resto dell'altra mia linea gli altri prodotti sono prodotti di alta qualità prodotti e relativi ingredienti sono conformi alle disposizioni di legge e dal regolamento comunitario sono registrati sul portale europeo di notifica dei cosmetici cpnp quindi vuol dire che c'è l'obbligo di notifica europea di un nuovo prodotto messo sul mercato che garantisce al consumatore l'utilizzo di prodotti sicuri per la propria salute quindi tutta norma viene fatto tutto secondo rispetto dell'ambiente e per la persona per uno sviluppo sostenibile ok come vi dicevo all'inizio il flacone è 100 per cento riciclabile e riciclati quindi 100 per cento fantastici questi due prodotti vi ripeto fino a stancarvi da provare uso frequente anche per tutti i tipi di capelli e barbe talmente delicati con due prodotti biologici e il resto degli ingredienti oltre 98 per cento naturali meglio di così cosa vogliamo è ragazzi non mi rimane altro che dirvi che se siete interessati li trovate sul mio canale youtube in alto nelle home page dove c'è scritto un negozio lì potete acquistare direttamente tutti i miei prodotti da barba e spero che ne usciranno degli altri ok addirittura sto iniziando a metterli su amazon basta che scrivete prodotti da barba bird patrizio vagelli oppure fluido da barba patrizio vagelli o shampoo da barba patrizio vagelli andate vedere sto incominciando a metterli anche su amazon oppure nel mio canale youtube patrizio vagelli in alto negozio cliccate andate dentro li potete vedere acquistare direttamente oppure scrivete a me in privato ok spero che vi sia piaciuto anzi una volta che le acquistate vi piazzano bene ragazzi con questo vi saluto e come dico sempre bear is power grazie a tutti